Ragazzi, Termini non c'è nessuno, sono le due e mezzo di mattina Repubblica, vota, questo? Ecco il loro, vediamo un po' Gioco uno prenotato Barberini, idem Buon compagni, non c'è nessuno Ottimo Non c'è nessuno perché stanno lavorando Ma che sta? Sta parcheggiato Si sta parcheggiato Si è aperto il locale, non c'è per me la notte E' chiuso Piazza del popolo Piazza del popolo? Vota Io ho fatto capire, te vai sotto una barca Ci rimettiamo tutti Perché te? Perché qui Siete vetti stasera Piazza Venezia Non c'è nessuno Allora la realtà è questa A differenza delle notizie che arrivano Di attaccare a lavorare Non si deve attaccare a lavorare Perché nessuno lavora Serena le notizie So farsi Quindi domani fermatevi tutti quanti Domani andate avanti se tenete la vostra licenza Perché se riuscite a ria martedì La decisione del ministro Sarà molto pesante per prendere Così Se invece andate a lavorare Per lui sarà una camomilla Per una volta nella vita Riuscite a scavarcare il sindacato Vota russa Fermatevi Ma sai che l'ha letta Capito L'altina Non c'è nessuno Ah ma andammo pure a bella Andammo a San Pantanaro Andammo passiamo Non lo vede qua Ecco la getta No ma non c'è stanno Sfungendo Così c'è Dio che poi sta ceduta La notte di qua Qua c'è gente a terra E' un Pantanaro E' un aeroporto E' un aeroporto E qualcuno lo so Qui stanno le macchine appizzate Dei noleggi Comarzoni Corso Vittorio Manca un taxi Ma meglio è poco Questo che gira No è Il vigilante E' un'altra cosa E' un'altra cosa C'è una cosa Devo stare a pensare Quelli della Pecoglia O un Risorgimento Andavate andate in altri paesi E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Il Risorgimento Voto 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 C'è Dicevo sempre Il taxi T'appo perché Andate a me Io devo andare Sulla Nomentana Lontano Poi da lì e dove andiamo a Montemario e mi ha detto che ci costa l'ambulanza belli passiamo da qua i posteggi sono a voto tutti i voti sono di notte non lavora nessuno vedete che dovete fare domani se vi interessa la licenza è riuscita ad andare avanti che stamattina all'aeroporto non si deve affittare riusciamo ad arrivare a un'impresa fuori da c'è lo sciopero, sai eh?